Ciao ragazzi e bentornati, secondo video di giornata Allora, manca tanto ancora la partita colludinese che ricordo Si giocherà lunedì alle 20.45 Io e questi spezzatini qua mi stanno un po' indigesti, devo essere sincero e franco Cioè, a me piace la partita sabato e la domenica Il lunedì, no, francamente Però, parliamo di alcune novità Una di Fabrizio Romano, un'altra aggiunta rispetto a ciò che vi ho detto nel video di stamattina E infine una suggestione che è stata tirata fuori da Gazzetta dello Sport Ma che può effettivamente avverarsi Per cui, ne parliamo insieme perché sono convinto che farà discutere questa cosa, no? Allora, prima di iniziare ci tenevo ovviamente a invitarvi a iscrivervi al canale Mi raccomando, è importante Siamo ai 91.000 Mancano 9.000 circa Ai 100k Quindi, ROD to 100k E vi invito a commentare Ditemi le vostre opinioni che è la cosa più importante E a proposito Non so se siete amanti del genere GTA 5 Ci giocate? Io sto giocando con GTA 5 RP Su computer Se siete interessati si può fare qualcosa insieme Cercatemi che magari facciamo qualche sera A cazzeggio Qualcosina insieme Iscrivetevi al gruppo Telegram Trovate il link in descrizione Allora 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 Ragazzi Parliamo della prima indiscrizione legata a Fabrizio Romano Nella sua live su Kik Su SOS Fanta Ha parlato di un aspetto importante Legato al futuro di Tiago Motta Mi ricollego al video di stamattina Avrei detto Non è Una cosa strampalata Ipotizzare il fatto che se la Juve va su Calafiori Abbia magari anche in cantiere L'idea di Tiago Motta Di prenderlo Dopo Per il posto Allegri Tanti di voi mi diranno Ah ma Allegri è un contratto Sì Tutto molto bello Il fatto è che Come abbiamo detto Romeo Qualche video fa Qua su questo canale Romeo Cristi ha detto una cosa Non si arriva a scadenza O c'è il rinnovo O c'è il cambio Per cui siamo davanti a un bivio Non c'è La via di mezzo Ovvero a Rimango fino a scadenza naturale Non si dovrebbe arrivare A questo punto Idem Uno per la Juve Per una questione di programmazione E due per lo stesso Allegri Perché Allegri sicuramente Vorrà delle certezze Ora voi mi direte Ah ma si può rimanere A fine Allora In Italia Non è una cosa Usuale Rimanere fino a scadenza naturale Di contratto All'estero invece sì All'estero Devo essere sincero Ci sono allenatori Che arrivano a scadenza naturale Poi Addios Arrivederci Grazie In Italia Pochissimi casi Credo L'ultimo caso E la Juve Risale a Lippi Che rimase E a metà stagione Scazzò con tutti E se ne andò Lippi 1.0 Per cui E' auspicabile Pensare a un cambio Cosa ha detto Su Tiago Motta Che rimarrà in Italia Secondo lui Le due squadre Papabili Per Tiago Motta Sono essenzialmente due La Juve E il Milan Però del Milan Si parla tanto In utica Cambio L'arrivo Di Antonio Conte Come successore Del mister Pioli La Juve Quindi rimane Insomma lì Potrebbe essere Tiago Motta Effettivamente L'allenatore Della Juventus Può darsi Io Lo apprezzo Sono Sincero Ho trovato in lui Un allenatore Con delle idee Brillanti Con una certa dose Di pragmatismo Un allenatore Che non si fissa Ma un allenatore Che ha un'identità Chiara Che vuole Sicuramente Cercare di fare La partita Con la sua squadra Il Bologna E' una squadra Che intanto Solida Segna A gioco Ha idee Ha flessibilità Tattica Ha la capacità Di avere un piano A Un piano B Un piano C Un piano D E questo conta Tantissimo Per cui E' un allenatore Che è giovane A livello comunicativo Scazza un po' Ma su questo Si può sempre migliorare Ma io l'apprezzo Anche quando scazza Anche Conte Scazzava Però se lo fa A difesa Della nostra squadra Un allenatore simile Ci può stare Per cui Vi dico Occhio A Tenere insomma Un po' Il focus Anche sul futuro Di Tiago Motta E su quelle che saranno Le scelte della Juve E temevo anche Che il dibattito Sull'allenatore Arrivasse Un po' Prima della primavera Soprattutto perché L'obiettivo Scudetto Pare lontano Ora vediamo I prossimi risultati Anche dell'Inter E vediamo Se metterci una pietra Su Definitivamente Sul discorso Scudetto Poi Seconda Notizia Data in descrizione Dalla Insomma Dalla Gazzetta Si parla Di prolungare Ovviamente Kenan Hildiz Fino al 2029 Quindi Un contratto Di altri 5 anni Con un adeguamento D'ingaggio Questo è Ma l'idea è che Dall'anno prossimo Potrebbe Effettivamente Prendere la 10 Ora Non so se questo Sta nei piani Della Juventus Effettivamente Ma è un'idea Che non mi dispiace Perché credo Che Hildiz Dall'età che ha Abbia Ottime Caratteristiche Per diventare Effettivamente Il nostro 10 Tanti adesso Discuteranno È giovane Non è esperienza Ci stiamo gasando Potrebbe essere Un fuoco di paglia Può darsi Io invece Su di lui Ripongo Aspettative Abbastanza elevate Credo che sia Veramente Un fenomeno Generazionale Credo che Abbia le capacità Effettivamente Per portare La numero 10 E badate bene Del Piero Quando la presa Era abbastanza giovane Divenne capitano Molto giovane Lo stesso anche Del Piero Totti fu il più giovane Addirittura 10 capitano Per esempio Della Roma Non la trovo Una cosa così sbagliata Dato che Il talento Di questo ragazzo È cristallino Ma l'aspetto 10 È una cosa Secondo me Secondaria La cosa che bisogna fare Sicuramente Blindare Questo ragazzo Quanto prima Però ipotizziamo Un eventuale 10 Faccia da capitano 10 Prolungamento di contratto Fino al 2029 Cosa significa In termini di programmazione Che sicuramente Qualcosa là davanti Succederà In termini di cessioni Eccetera Io ve l'ho detta La mia Già stamattina Io Faccio una previsione E poi vediamo Se si avvera Dico che chiesa Iniziato numero 1 Per lasciare la Juve Sincero E franco Non me ne voglia Il buon chiesa Non me ne vogliano Non me ne vogliate voi male Però Anch'io a prezzo Chico Sia chiaro Sono due Le spade di Damocle Sul contratto Di chiesa La sua integrità fisica E la scadenza Per cui Se c'è qualcuno Di monetizzabile Se arriva la giusta offerta 50 60 milioni 70 milioni Beh Credo che chiesa Partirà Magari post europeo Dopo che è stato messo Lì in vetrina Perché poi con spalletti Tira fuori il meglio di sé Tanti di voi mi avete detto Io non cederei mai chiesa Però ragazzi Il discorso rinnovo È abbastanza spinoso Non è così semplice E capisco anche la Juve Che non voglia Dargli un ingaggio elevato Se non dà Garanzie fisiche A questo ragazzo Quindi bel casino Però La domanda vera Non è su chiesa Non è su Tiago Ma la seguente Ildiz 10 E rinnovo 7 D'accordo Sì o no Più che altro sulla 10 Sul rinnovo Credo che la La risposta sia plebiscitaria Signori Questo è tutto Ci vediamo domani Per nuovi aggiornamenti Un abbraccio grande E sempre fino alla fine Forza Juve